felice regresso felice regresso finire me glielo ho dato una bottiglia me l'ha data lui me l'ha data lui la bottiglia cosa c'era cosa c'era in quella bottiglia buongiorno finire la me buongiorno salutiamo siamo qua con Gianni Gioielli Gianni Gioielli Gianni Gioielli Barlo come sempre e in oggi ho come al solito il dottor Morden ciao Morden che ho già salutato prima sono stato prevedente Comunque energia si dice felice regresso non buongiorno figli della merda Io dico quello che mi pare va bene Felice regresso Oggi è impazzito Vigali che hai ascoltato il disco Quanta rabbia repressa c'hai Non neanche un po' Ti ho divertito tantissimo dai Lo so Prima di partire volevo ricordare ragazzi Perdonami perché sennò poi Giollier non può venire a trovarci Perché? Perché han detto che ha degli impegni inderogabili In cui noi non c'entriamo un cazzo Però tipo già solo hip hop tv è già più inderogabile di noi Per dire Quindi lo sappiamo e nel caso scrivete a lui non a me Esatto ditela loro anche Enzo Down A noi è sempre aperto quella porta Scusate Ok ce l'avete così? A voi di dissing subito? No no assolutamente no Giollier gli vogliamo un sacco di bene come Enzo e come tutti i ragazzi No pensavo agli altri No no il disco è bello Il problema è che Il problema è che purtroppo C'è una struttura dietro E questa struttura molte volte non cozza con le nostre idee Oppure cozza con le nostre idee Oppure cozza Sì non cozza scusami Non combacia ma cozza Ti piace la cozza a te? I quei cozzoni Preferisco le ostriche no? Ah Lui è un sacco di classe E cominciamo subito parlando appunto del nuovo disco di gioielli Che è Pornstar Come gliel'ho infilata lì per arrivare Hai chiamato il disco Pornstar E ogni traccia ha il nome di una pornoattrice Tranne la prima che c'è il nome di un regista E io pensavo che lo mettessi alla fine No l'ho messo all'inizio Perché alla fine faccio sempre la traccia un po' più fils Quindi al nome di una porno star che è morta Suicide l'anno scorso Quindi ho fatto la traccia dove dico un po' più le cose sentimentali Ho messo schicchi per primo Perché è quello che ha portato il porno in Italia Diciamo Quello che ha scoperto Cicciolina, Moana, Seren Tutte le serie sono fatti quelli della nostra età Ma tutte le ex del Gabibbo tra l'altro Sono queste qua Guarda, puoi dire tutto quello che vuoi Tranne la parola con la N e la parola con la F Figa? No, quella sì Ah ok, allora È la figa degli uomini Quella che non piace, ok Esatto Quella a cui non piace Cercherò di contenermi Vabbè, niente Quindi sì, ho detto Riccardo Schicchi come inizio Perché voleva essere Voleva fare Riportare il rap hardcore Ma infatti Pornstar La nascita di Pornstar è perché Di tutti i rapper italiani e franceschi Si chiamano Popstar Giovane Rockstar Giovane Io invece faccio hardcore E quindi Cosa c'è di più hardcore? Quello è il concetto di Pornstar Quello è il concept Non è che devo raccontare la vita delle Pornstar Esatto Ma infatti anche perché all'interno Ci sono soltanto delle similitudini Con il pezzo Beh, oh zio Insomma, è abbastanza esplicito il disco Vabbè, ma Ma tra una volgarità e l'altra Ma tra una volgarità e l'altra No, infatti Però è più a tema, insomma Come mentalità Come mood tuo Sì, sì, sì E tu continui a firmarti Come Young Bettino Oltretutto Eh sì Eh sì E questo sì È talmente ovvio È talmente scoletato Cosa vuoi fare? Young Bettino è una barra Che ho fatto nel mio primo disco Che avevo fatto a solista Dopo aver fatto i dischi Con Micromala A un certo punto dicevo Young Bettino Sotto il sole sul lettino Cash e Bodyguard Chiamami il Dio C'ho sta barra qua E la gente I pochi che mi ascoltavano All'epoca Tra cui mio fratello Noiz Mi ricordava così Per quella barra lì Diceva Young Bettino E quindi Iniziavano a chiamarmi così Quindi poi Young Bettino Storio deve essere Il mio ultimo disco E te lo chiamo così Così poi chiudo tutto Sì però Questa roba nel disco Tu hai fatto una barra Che è una figata Io sono Young Bettino Io sono Young Bettino E tu sei Berlusco Eh sì O qualcosa del genere Sì Sono Young Bettino Sono Young Bettino Per questo Young Berlusco Capito che Hai richiuso il rap italiano Cioè hai fatto una fotografia Del rap del 2000 Quanto siamo adesso? 2016? 2019 2019 2018 E poi che comunque Nella bella Il periodo 2016-2019 Hai fatto una fotografia del genere E con una barra sola Hai spiegato il rap italiano Di adesso Ma ho spiegato anche proprio Il concept che c'era dopo Su Young Bettino Story Cioè l'ho riassunto Con quella barra là Cioè quello era il concept Young Bettino Story L'ho ripetuto qua Cioè io sono quello Alla fine Bettino Era meglio di quelli Che ci sono adesso Per quanto stiamo Sai che è davvero brutto Sai che stiamo Rimpiangendo Se tu vedi le interviste Faceva Craxi Diceva delle cose E le spiegavano In una certa maniera Ti spiegava certe cose Di economia Di dinamiche Certe dinamiche Che adesso i politici Non ti spiegano più Perché non le conoscono Neanche loro Fanno l'aria fritta Non so se non le conoscono Perché poi vai a sapere Cosa hanno loro in testa O se gli fa comodo Fare così Craxi Quando parlava Ti raccontava Facciamo questo Per questo e questo Va un ragionamento Non adesso Quelli si rubano il lavoro Non devono entrare Ma basta Che cazzo Perché Stiamo rimpiangendo Andreotti Andreotti Io sì Io sì Allora Prima si rubava a tutti Quando c'era lui E anche tu Riuscivi a rubare un po' Anche tu Adesso Non ce n'è più Niente da rubare Però l'idea di Bettino Era che si stampava i soldi Raga E vabbè ma Bettino Anche grande capri spiatorio È stato il grande capo spiatorio Un po' come Baffetto La colpa è stata sua Sì La colpa è stata Tutta la colpa sua L'hanno preso Se è andato da Mammet Si è morto la Cazzo La gente E basta A me manca l'Italia Facceva scinautico Dietro con le tette al vento Geniale Quell'intervista Mi chiede Oh Maria Perché non hai messo La grandissima Lea di Leo Non mi piace No Davvero E non finisci La domanda La domanda è Perché non hai messo Bella Donna Quando si rasava i capelli a zero Eh figa anche lei Oh non è che posso metterle tutte C'erano 15 pezzi E no E no Ma mettevi Bella Donna Tra parentesi Skinhead Però bonus track Sai quanti messaggi mi sono arrivati Perché non hai messo l'esame Perché non hai messo Non ho messo l'illery read Perché quella si è scopata Lì il pump Ma io non ho messo Sì scopata Lì il pump Esatto Ah quindi neanche fishbowl No 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 Barlo Ciao fishbowl E invece trans niente Solo fregne Continua a piacermi Sì Vabbè ma sei Sono vecchio io Sei vecchio è vero Ragazzi poverino È vecchio Faccio anche musica vecchia no Sì ma hai fatto un disco Boom bop della Madonna Non è boom bop No vabbè però è oscuro Cioè è vecchio All'attitudine old school È vero è vero Perché le basi Sono molto lontano dal boom bop Allora le basi sono Patti che alcuni pensi Non hanno nemmeno La batteria Esatto E questo te la porti da dietro Da young vettino story Ho preso questa gueva americana È nata con rock marziano Poi la griselda Qui ci rifacciamo Che io cito Quando faccio Tutututututu Sono le cose che fanno Quei sidegun Quelli griselda Figli di puttana Sono una leggenda È una barra che diceva lui E quando la gente diceva Ah coppi griselda La gente dice che io copio griselda Figli di puttana Sono una leggenda Adesso lo dico in tutte le strofe Il discorso Ho detto boom bop Perché il percepito A uno con l'orecchio vecchio È che con delle basi nuove Suoni nuovi Eccetera Non mi ha spiazzato Non mi ha dato l'idea Che stai facendo la trap No no Sto facendo Sto facendo la roba nuova Della roba vecchia Esatto Fico E a me non dispiace Soprattutto perché Il suono mi ha pulito le orecchie Sì Poi ieri so che tu hai seguito La diretta che ho fatto Io trovo che Anche con i ragazzi Che eravamo in chat Stavano chiacchierando Perché poi È molto bella questa cosa Di ascoltare I dischi Con la gente che ti risponde Esatto Io lo guardavo per vedere Cosa una persona provava Hai capito Quando sentiva il disco Cioè quando sentiva Le barre Che effetto fanno Perché c'è Comunque è una sorta di concerto Che guardi dall'esterno Ma con l'occhio critico Asa Akira La tolla Più bella Sì È la canzone più figa Dove dissi tutti Io non spoilerò niente Compratevi il disco No beh dicevo Scusatemi Dicevo I ragazzi mi dicevano Sì ok Il flow è un pochettino Ma annoia Perché tiene sempre quello E io cercavo di spiegarvi Che fondamentalmente Il flow è il flow È una roba personale E secondo me Poi devi mettere Un po' da parte Determinati tecnicismi Nel momento in cui Allora Fermi un attimo Questa è la differenza Tra la vecchia scuola E la nuova scuola Soprattutto qua in Italia È questa Ma come anche in America Una volta I rapper avevano Un flow Certo Ogni rapper aveva Il suo flow E rapava Sempre in la stessa maniera Perché doveva essere riconoscibile Invece adesso Tutti i rapper Fanno 50.000 flow E poi tu li ascolti Non li distingui neanche Perché non sei più in grado Di riconoscere Ah è lui E dopo dici Ah no Questo è questo Ma sembra questo Il rap è come questo Cioè Si influenza una vicenda Invece un rapper Deve avere il suo flow Io sono cresciuto così Devi avere il tuo stile Questo è il mio stile Io rappo così Non ti piace Questi cazzi Bravo No però ci sta Cioè è giusto che sia così Cioè potrei fare anch'io I pezzi così Con tutti gli extra bit In aree Non mi interessa farli Cioè chi se ne frega Chi te ne fotte Io voglio dire le mie porcherie Basta divertirmi Però in realtà è un disco Che tra una volgarità e l'altra C'ha un sacco di concetti Un sacco di infilate Di qua e di là Quindi le tue porcherie Sono contestualizzate A un mood Perché io vedo il rap Come Vedo il rap Come se adesso qua Che parlo con voi Allora uno Quando parlo Non è che voglio Arrivare da una persona Tirargli un'ora Un'asciugata Su un argomento Dove ti racconto I rapper che scrivono Il temino A me mi rompono le palle A me piace Dire le puttanate Come se fossi in giro A bere con voi Poi magari a un certo punto Della serata Viene fuori anche Facciamo il discorso serio È una stand up comedy Parliamo due minuti Qualcosa di serio Poi Diciamo puttanate Essere divertente Cioè il rap Deve essere così Diretto Un disco poi Non è che può Ammorbarti la micchia Sì Un disco deve essere Una cosa Inizia a raccontarsi Tutti i cazzi suoi Fa il testo Dove parla con la tipa Perché ho fatto quello E mi sento Poi tutti questi Che dicono Stanno male Io non capisco mai Di che cazzo stanno male Che cazzo c'hai Grazie Gesù Ma cos'hai Grazie Gesù Vabbè Adesso difendili Adesso difendili Che problemi c'hai Però c'è Il bisogno comunicativo Io capisco Ma ascolto Io capisco Che magari uno scrive Un disco Per un ragazzino Di 15 anni Di 20 anni E quindi vuole dire Certe cose Perché vuole puntare A quel pubblico A me non me ne frega un cazzo Ok Però c'è anche Chi fa un discorso Proprio comunicativo Per esigenza comunicativa Guardi i ragazzi Della zona di Napoli Che hanno bisogno di Anche semplicemente Evadere parlando Di quelli Che sono i loro problemi Poi tu Sai che per un napoletano Evadere è fondamentale Chiaro Chiaro Io posso dire una cosa Non è razzismo Allora a me piace Io ascolto rap americano E ascolto Rap italiano Un po' Rap napoletano Io non capisco cosa dicono Non l'ascolto Ok Mi dispiace Capisco bene l'inglese Quindi ascolto il rap americano Ma è uguale Però mi ricorda molto Next Cassel Come attitudine Ebbè Siamo cresciti insieme No Scusami Ah sì 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 Qui dicevo Anche Next ha un sacco Di bisogno di comunicare No chiaro Ma ci sta Ma anche io Comunico tantissime cose Che invece di dirle Di dedicare una canzone Per comunicare una cosa Magari ti dico una barra Faccio una barra sulla religione Non devo stare qua Di spiegarti Tutti i motivi Per cui penso Che credere in Dio Nel 2020 Sia una roba da stupido Dico per me Che di Dio Siamo stupido Basta Soprattutto quella barra Che hai fatto Era pesantissima Perché ci hai messo Anche un popolo Che non dovevi mettere Che si può dire Censurando Sotto casa Si può dire Censurando il nome del popolo No vabbè Sono sceso così Me lo faccio esplodere No e questi sono I servizi segreti Le tante Hai capito Hai visto Vabbè ma io Che dico quello che pensa Se poi qualcuno si piglia male Io mi piglio male Perché tu ti pigli male Allora Come fanno le tipe Cioè tu mi dici Ah Tu non puoi dire Quelle cose che là E tu non puoi dire Quella allora Tu non puoi dire Che credi in Dio Perché io penso Che sei un coglione E tu non puoi dire Che sono un coglione Perché credi in Dio Che discorsi sono E' come quando La tua tipa ti fa incazzare Perché ha fatto una cosa Che ti ha fatto incazzare E lo sapeva Tu ti incazzi Tu ti incazzi E lei E lei si incazza con te Perché tu ti sei incazzato con lei E quindi la stai trattando male Colpa tua Non parliamo di tipe Non parliamo di tipe Né di minoranze etniche e religiose Che è la stessa cosa Cosa è successo dietro I servizi segreti Ti sei visto Ci scanno Il governo non ci sta spiando Intanto vado a sistemarlo dietro Ci stanno tracciando Senti un po' Ascoltami Sì dai Questi velati dissing Dentro il disco Che la gente a casa piace Il flame Allora io Per me In Italia la gente Non ha sempre capito poco Del dissing Il dissing è la base Il rap è nato col dissing Non è nato quei contenuti Il rap è nato con uno stronzo E prendeva un microfono Ante la festa E faceva le rime Poi arrivava un altro stronzo E diceva Dammi il microfono Che io sono più bravo di te Così è nato il rap Non c'erano contenuti Non c'era di più E' nato così il rap E' nato party E quindi hai capito Tutti i rapper dissano Hanno dissato tutti Magari dissano Un tuo immaginario Però tante volte Stanno dissando Un tuo immaginario Che magari vi rappresenta Quindi che ne so Un rapper che è diverso da me Dissa i rapper tipo me Io mi sento come dissato La mia differenza È che magari li faccio Un po' più puntati Ma per me un gioco Non è una cosa personale Il problema è che qua in Italia I rapper la prendono Proprio sul personale Se io vado da una persona E gli dico Oh il tuo disco non mi è piaciuto Sembra quando gli hai detto Oh sei un figlio di puttana Devi morire Oh guarda Lo sappiamo bene No Sei una bellissima persona Mi stai simpatico Il tuo disco non mi è piaciuto Basta Ma perché la gente Se lo prende Non ti è piaciuto il mio dio Io ti ammazzo Ti vengo sotto casa In America si spara Non è vero che in America Si sparano i rapper Oh Non sono i rapper Non sono i rapper che si sparano Sono gli altri che si sparano C'è anche qualche rapper Che si sparano O quando qualche rapper Si spara Era perché già si sparava Prima di fare il rapper Cioè a fine Cioè nel senso Non è stato che È andato Biggie la di persona A sparare Tupac È andato Tupac Che è tornato È risorto È andato a sparare a Biggie O è andato a NASA A sparare a quello Cioè non è così I rapper rappano E si fanno i dissing In Italia invece Farsi i dissing Ti prendi Ti porti tutta la tua squadra Di gente Ah siamo più grossi Più cattivi No Rappa Poi devono fare il cazzo Da ti agli altri Fai rap Fai rap E io faccio delle barre E tu fai delle barre anche tu Cioè quello è divertimento Cioè io mi diverto Cioè non c'è niente contro le persone Che dissono Non c'è niente di personale È divertimento L'altro giorno parlavo col profeta Sì Babaman Perché aveva proprio il Inverso Cioè comunque Contrapposto al tuo pensiero Dice lui Dissi non li concefisco Perché Secondo me può essere Anche mentalità È zona di dove nasci Sì può essere Molto come nasci Perché lui Unisce tutto Lo conosco anche Non benissimo L'ho conosciuto varie volte Amico Gli amici Loro Lui parte da un'altra parte Cioè lui non parte magari Da una visione hip hop Del dissing Per lui è lo scazzo Che hai con altre persone È una cosa personale È una cosa personale Invece quello che dico io Che sono nato Con l'hip hop Non è una cosa personale Per cui è artistico diciamo Ma neanche Goliardia Esatto Goliardia è rap È rap Io faccio rap per divertirmi Cioè io faccio altre cose nella vita Cioè io non è che faccio rap Ecco Io lo faccio perché mi diverto Poi Sì 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 Volevo Prima di chiudere un attimo il disco Scusami Continua pure Stavi dicendo No Io lo faccio per divertirmi Quindi nel senso Fare un dissing Fare una sfida di rap È divertente O quando ci becchiamo Noi vecchi scorreggioni Del rap italiano Che ci troviamo Hai capito Magari anche personaggi Più o meno famosi Siamo ubriachi Alle tre di mattina Ci mettiamo a fare freestyle Come fossimo dei ragazzini In cerchio di ubriachi E ci insultiamo E per me la stessa cosa Lo faccio anche nelle canzoni Cioè io non è che devo vendere i dischi Quindi io nelle canzoni Faccio le stesse porcherie Che faccio da ubriaco Alle tre di mattina Tu ti sei portato anche Un ragazzo Con cui hai fatto un featuring All'interno Regia meno microfoni Per favore Tu 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 Armani Dagli il microfono Dagli il gelato Sai come è nata la cosa con Armani No no intanto che il microfono Dimmi dimmi Praticamente io ho fatto questa cosa qua Di Ah ah Avevo fatto una specie di challenge Avevo fatto Ho messo Da gente che c'era A chiedermi le basi Chiedermi le basi Metti le basi Le strumentali Ci le abbiamo sopra Io che sono molto rap Molti hip hop In questa cosa Nonostante quelli Dell'hip hop vecchio Mi abbiano detto Tutta la vita Che io non sono hip hop Sì Come quando Rappi Com'ha Com'ha Vieni qua Insiedi Mi sta male Mi piaccio Mi mettono lo sfum E quindi ho messo le basi Mi andate Dopo mi facevo le direttive Che erano dove ascoltavo i pezzi Poi il tuo pezzo su Mi è piaciuto tantissimo E ho iniziato a coinvolgere I miei progetti Ti dico Ho fatto una cosa mega hip hop Hai fatto una roba hip hop Cazzo E la gente Posso dirlo Che quelli dell'hip hop italiano Tante sei volte Mi hanno detto a me Che non ero hip hop Perché magari Nei pezzi vecchi Magari parlavo di droga Parlavo di soldi Parlavo di figa Ma come? Facevi la roba Che va adesso di moda? E qui dicevano Ah no Gioielli non è hip hop Gioielli si stringa Mi stringiamoci un po' tutti Allora Facciamo parlare un po' Ragazzo 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 No io volevo chiedere Visto che è venuto lui Che è quello che mi ha fatto Emozionare nella barra di ieri Ho visto che ti è piaciuta Chi era qua con me In live ieri Ha visto quanto Ero preso bene Sulla barra Che poi io ho detto Contro madame Ma in realtà Non era contro madame Ce la spiega ai ragazzi? È semplice Anche lì era una barra Cioè non è un dissing Per me il dissing è Fan culo te Ok Cioè È chiaro È una barra C'è il doppio senso E parli della tipa Semplice Se la tipa è snob Fa la madame Quindi c'è il doppio senso Non l'ascolto E l'immagine che hanno tutti È la CR7 Che ascolta la madame Certo esatto Dici non sono CR7 Non ascolto la madame È un doppio gioco Non è un gioco di parole Non è un dissing È una barra Cioè Per me la barra Deve avere un doppio senso È una cosa Aspetta perché Lui parla di questa roba Dei doppi sensi I rapper americani Non fanno tantissimo In Italia La fa pochissima gente Di dire una frase Che ha due o tre significati All'interno Cioè Che tu stai carato Di madame C'è le 7 Però in realtà Stai raccontando Un'altra cosa Un po' come Marla Nell'ultimo disco Che ha fatto Lo stesso lavoro In tutti i pezzi Mi stava Non faceva così No no Ma è singolo sulla barra Cioè Non è una roba di pezzi Esatto Anche dopo ne uso altro No perché Come prima vi stavo dicendo A me è stata molto simpatica Questa cosa Perché Nel pezzo avete fatto Tante citazioni Anche al nostro E noi non siamo nessuno Ci riteniamo Ci riteniamo Dei Come si dice Simpatici falliti Simpatici falliti Che si attaccano A navigare Nel mare del rap italiano Ma che non ne fanno parte Diciamo che siamo Senti sulla nave Ma non siamo I conduttori della nave No Però è molto bella Perché nel pezzo Che avete fatto insieme Ci sono tanti riferimenti Anche tra virgolette Alla nostra storia Al nostro percorso E citiamo tanti personaggi Che hanno avuto a che fare con voi Esatto E noi ci parliamo bene Di nessuno Esatto Non parlo bene Di nessuno Tutto il disco in generale Quindi è facile Sì È bellissimo E questa roba Mi riempie Tra l'idea di orgoglio Perché comunque Io ho tanto rispetto Per il vostro lavoro Soprattutto Lo sai Ti seguo da un po' Sì sì certo E sai anche Quanto apprezzo Il lavoro che fai Quindi per me Essere citato Indirettamente Sì chiaro In un pezzo È motivo di orgoglio E sono veramente contento Ti ho invitato Prima di saperlo Quindi No no Certo certo Infatti 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 Non è una leccata di culo Assolutamente Sì ma era già in ballo Poi questa roba Già da un po' Di venire qua da voi E Di venire qua da voi Adesso tu diventi Un Johnny gioiello Singolo Ah no pensavo di venire Ah no pensavo di venire Forno star Quafro La Quafro Me lo zoom Un attimo Me lo zoom Un attimo Ti faccio la tag Guardalo Guardalo che bello Allora ragazzi Comunque io vi ricordo Io vi ricordo Ricordaci Andate tutti Ai ragazzi a casa Andate ad ascoltare Su Spotify O comprare fisicamente C'è il ct fisico No fisico non l'ho fatto Ecco perché non l'hai portato Bravo Però su Spotify C'è questo bellissimo disco Faccio il vinile però Adesso c'è il vinile Lo annunceremo a breve Vi e me lo regali però Che non voglio mettere sposto Un vinile è solo con le sporche Delle pornatrici Che gemono Per fare gli scratch Per i tuoi live Ma infatti Dovevano esserci Tutti gli scratch Poi un tipo Non li faceva Mi sono dimenticato di chiamarla Alla fine Ma chi 2p? No 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 2p Ma no fratello 2p No no è un ragazzo Della mia zona Che ci faceva gli scratch In quelli tipi di micromare Gli avevo passato un po' di cose E poi gli siamo persi A proposito di cose Che a caso Tu oltre ad essere rapper Sei un essere umano Con dei sentimenti Delle passioni Delle aspettative Delle tue piccole delusioni E delle tue piccole miserie Mi stai sopravvalutando Esatto Mi hai sopravvalutato tantissimo Va bene Tu giustamente dici Il rap io lo faccio per divertirmi Non per fare il cazzo Del che cazzo lo è Il mio calcetto del giovedì sera Esatto E nel resto dei giorni della tua vita Se questa la vuoi chiamare vita Cosa? Di cosa ti occupi? Faccio videogiochi Wow Fai Questo è dei videogiochi Perché mi attaffano quelli insieme? Che siete? Però Quando è che hai iniziato a farli? Io ho fatto il cuoco Ho avuto ristoranti Ho fatto il cuoco Per una decina d'anni Io ti sfido A te A luci E a che cazzo A cucinare così E all'altro Come si chiama? Da bendato Ti vedi a caso Senza neanche vedere che cosa cucino Però versione discount Sì sì Budget tipo 5 euro a test Dobbiamo fare un primo o un secondo Va bene Ok Vai Facile con un primo 5 euro Siamo un primo Siamo rubati il format Perfetto Vai E niente Poi a un certo punto Ho detto adesso mi prendo un anno In cui non faccio un cazzo Ho iniziato a cazzeggiare Ho scoperto che sapevo fare i modelli in 3D Ho iniziato Ho visto che si poteva fare Ho visto che c'era un mercato Mi sono inserito nel mercato Adesso faccio quello per lavoro Figo Semplice Ehm Questa cosa che parlavamo prima Esatto Di trovare nuove spunti per i ragazzi Che dicevano No io non so cosa fare Non ho futuro Sì Ma perché Vedi lui prima diceva Che ai nostri tempi Era più facile trovare un lavoro Rispetto ad adesso Ok Un lavoro regolare Normale Inteso come era una volta un lavoro Sì Adesso non esiste più La mia ragazza C'è la che esiste Fa cagare La mia ragazza Lavora per multinazionali Fa manager così Si può sapere quanti anni ha? La mia ragazza? 30 Molto giovane Quindi ha avuto la fortuna di farlo Tra 5 anni già non poteva più farlo 30 Non ha 20 comunque No 30 Allora poi se sei bravo Hai capito Se sei bravo Se sei una persona brava A fare quello che fai Vedono che sei bravo Ti prendono Non è quello Lei è partita senza Lei è partita facendo Praticamente la commessa In 5 anni È arrivata a fare la manager Multinazionale Ok Con buona pace Delle femministe Che dicono che Le donne Non possono lavorare Non arrivano Se una persona avesse qualcosa da fare Non si metterebbe a fare La femminista Ti sta disociando Ti sto disociando Grazie Sniccia tutto Qual è quando andavo a rubare il rame Per le zicca Mi è rimasto in giacenza Non mi ha messo lì No ma a parte quello Adesso non esiste più quel lavoro là Adesso anche i manager Cambiano azienda Ogni 2-3 anni È difficile che ci sia una persona Che fa per 20 anni Il lavoro Nella stessa azienda Non esiste più Però adesso Mentre una volta Tu ti aprivi Mi facevo l'esempio a lui Ti aprivi un negozio Te l'aprivi nel tuo paese Magari di 50.000 abitanti Dove vendevi i vestiti E quei vestiti li dovevi vendere A quelle 50.000 persone Esatto Adesso E magari tu volevi I vestiti particolari E c'erano 10 persone A cui piacevano E tu dopo un anno Fallivi 6 mesi Adesso tu quei vestiti particolari Li puoi mettere in internet E li puoi vendere A tutto il mondo Quindi hai un Qualunque cosa tu puoi fare Adesso hai un Un target Hai un pubblico Che si ama Cioè io Quello che faccio io Lo vendo magari A 3.000 persone In tutto il mondo Però se non ci fosse internet Io potessi arrivare A queste 3.000 persone Che sono 4 in Russia 5 in Stati Uniti Non lo potrei fare Il giovane italiano Adesso dovrebbe capire Che adesso Non puoi dire Il giovane italiano No Ci bannano Il giovane italiano Eh che ricordo Il giovane al massimo O italiano italiano Bravo No italiano italiano Peggio Il giovane italiano E ancora peggio Giovane italiano Ma italiano italiano Una giovane persona Di cittadinanza Vabbè insomma Un tipo che adesso Che cresce Che esce dalle scuole Così dovrebbe capire Che potrebbe inventarsi qualcosa E potrebbe provare A proporlo a tutto il mondo Partendo da zero Senza soldi Senza niente E invece che aprire il tuo negozio Ti fai un sito Ma ti fai intanto Una pagina Instagram Che ne so Ti inizio a fare le cose Poi la vengono Cioè Chiaramente devi impegnarti Cioè mentre una volta Andavi là Ti assumevano Ti mettevi là E facevi Pum Pum Esatto A fine mese Ti davano i soldi Adesso dicevano Ti pagano un cazzo Sì ma cosa stai facendo Stai facendo questo Allora vuol dire che Quanti soldi vuoi guadagnare Per fare questo L'economia cambia L'economia cambia In base anche al periodo De storico Però non abbiamo i mezzi Per insegnare ai ragazzi Negli anni 90 L'Italia non è ancora riuscita Agli anni 90 No Solo che il mondo È andato avanti 50 anni Nel frattempo Il mondo continua a andare avanti L'Italia continua a pensare Con la mentalità Degli anni 90 Degli anni 2000 Io quando Il lire Il lire si pensa Io che Parlo con gente Di tutto il mondo Per il mio lavoro Io quando parlo con gli italiani Dico Ma cosa Non ha capito un cazzo Gli ho spiegato Non ha capito un cazzo Gli ho parlato in italiano Con gli altri Che parlano in inglese Che è un po' più difficile Che non è la mia lingua madre E mi capisco più facilmente Il mondo è proiettato Al 2050 Noi ragioniamo ancora Le lire E' quello il discorso Non facciamo politica Dai basta Non è proprio politica È polis Perché si parla di popolo Però non di politica A livello di politica Il discorso è che Sarebbe un lungo discorso Da fare sulla politica italiana Che cos'è Perché chiaramente La politica rispecchia la gente La gente si lamenta dei politici Ma i politici rispecchiano la gente Esatto Chi è meglio di Iambettino Per fare questi discorsi Ma una volta Craxi Dopo che l'ha caduta di Craxi È stata proprio la morte della politica Perché Perché l'italiano Non voleva più il politico Che parlava Non ci capiva un cazzo Il politico Gli parlava papà e papà È arrivato Berlusconi Adesso abbiamo Salvini Che dice delle cose Che stanno a questo livello qua Ogni persona capisce Ha detto quello Prima un politico parlava di economia L'italiano non capiva un cazzo Però diceva Mi sembrava una buona idea Oppure A son di sentirlo parlare Iniziava a capire qualcosa Si impegnava un po' Adesso arriva quello a dire Io sono italiana Che cazzo hai detto Qual è il tuo programma di governo Qual è il tuo programma della finanza Qual è il tuo programma Il programma era Leonardo da Vinci Era italiano Il programma è quello C'è Cosa intenzione di fare Non facciamo più entrare gli immigrati Vabbè poi Ma io spero Che vinca Salvini Io spero Guarda Io spero Che vinca Salvini Mandano via Tutti gli immigrati Rimandiamo solo gli italiani E dopo 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 sei mesi Mi piazzo là davanti a lui Dico Sì però adesso Voglio tutto perfetto Voglio tutto Perfetto Mi piazzo là Dico voglio tutto Perfetto Ma tu sai bene Che la politica di Salvini Non è mandare via totalmente gli immigrati Cioè questo è quello Che fa passare per il popolo Per il popolino italiano Chiaro Sappiamo bene Che l'economia Si basa Per il 50% Sull'immigrazione Italiana E sappiamo bene anche Che le cooperative rosse Si sono mangiati Tutti i soldi Dell'Europa E quindi noi abbiamo Ancora un grosso peso Con l'Europa Non possiamo cancellare Da momento all'altro L'immigrazione In questa maniera Chiaro Ma non possiamo neanche fare Il 50% Delle cose Esatto Non si possono neanche fare Il 50% Delle cose Dice Salvini No esatto raga Quando ha fatto il discorso Dopo Conte Conte aveva detto Anche delle cose sensate Quel giorno Che poi era caduto il governo Salvini ha fatto un discorso Era abominevole Cioè La madonna Ci aiuterà Io mi affido alla madonna Cosa che non Un avvocato E uno che neanche ha finito Ma noi siamo L'arte di arrangiare Sì ma il discorso Seneca diceva Che la religione Per i politici È conveniente Perché quando quella dice Sono madre Sono cristiana Quello si affida alla madonna Cioè uno che ti dice Io governerò Ma affido alla madonna Vuol dire che sei disperato Non vuol dire che sei cattolico Uno che si affida Chi si affida alla madonna Ascolta Lei è già in una figuraccia Cioè parli di uno Che era al parlamento E l'hanno praticamente Sputtanato davanti a tutti C'è il capo dello stato Che ti fa il discorso Rivolto a te Vabbè Ma lì rispetto Non puoi fare altro Che arrampicare Lì entrano in situazioni Differenti Che purtroppo Non essendo Come quando si parla Di qualcosa Che purtroppo Non siamo nel territorio Quindi lì Noi vediamo solo Quello che ci arrivano Le immagini Non sappiamo niente Di che cosa c'è dietro Di che cosa sta Come si muove Ma alla fine è quello Cioè lui Noi possiamo parlare Di quello che ci arriva In faccia Purtroppo Io sinceramente Me ne sbatto Tutto E penso solo A fare le mie cose Non abbia lo spazio Per fare le sue cose Cioè fortunatamente Viviamo in un mondo libero Che se ne dica Il mondo occidentale Grazie a Dio Viviamo qua E quindi siamo liberi Di poter prendere Delle decisioni E di controllare Il nostro futuro Chiaramente Devi avere le palle Per farlo Devi studiare Per farlo Non sto dicendo Università Devi studiare Devi pensare Devi capire Come funzionano Certe cose Devi migliorarti Sempre Sennò Cioè Guarda che Io e Barlo Questa roba Abbiamo capito Quattro anni fa Quando abbiamo iniziato A fare YouTube Ah voi vedete Siete andate increscendo Siete sempre meglio Eravate là dietro Poi avete capito Devo fare le cose meglio Si deve sentire meglio Avete fatto degli investimenti Cioè Questa è la tecnica Per fare le cose Che vadano bene Il discorso Che i ragazzini Di adesso Pensano che deve essere Tutto facile Tutto subito Tutto veloce E pensano che fare Il rapper Con il microfono in mano Sia ok Ma non è neanche vero Perché Cioè comunque Molte robe sono organizzate Io c'ho 24 anni Non capito E comunque In un mare di merda Qualcosa si sta Chiaro Chiaro Perché comunque Anche dal 2016 Qualcosa è rimasto No ma ragazzi E chi è rimasto Era chi aveva un minimo Certo Certo Infatti Allora sta cambiando Parliamo del 2016 Se poi andiamo a vedere Prima c'era di peggio Nel 2016 Secondo me Dal 2016 2017 Forse anche 2018 qualcosa Sono stati gli anni più bui Ma più floridi Per quello che è il rap Secondo me Perché Sono venuti fuori A galla Tantissime cose Troppo pop Pop Ma neanche pop Quello bello Italiano Alla Masini Il pop brutto Alla Raffaella Carrà Per farti capire Brutto Fresh Stai parlando di Mr. Simpatia E poi È venuto fuori Porca troia Non ho detto Non ho preso lei Ma poi voglio dire Cosa ne pensi Di Mr. Simpatia Che tu hai vissuto L'evoluzione Comunque Di Mr. Simpatia Di Fabric Fibra Con un disco Sì Ma io conoscevo Fabric Fibra Fino agli anni 90 Inizio 2000 Mi sentivamo così Basta Mi piaceva Mr. Simpatia Un disco che mi ha divertito È stato il primo In Italia Che ha preso E ha detto Ok Prendo e copio Un americano In tutto e per tutto Ha preso E detto Io faccio Eminem L'ha fatto L'ha fatto bene Il disco è fatto bene Ma dalle vostre parti Come si viveva Questa cosa del disco Cioè perché noi Ci perdono sempre parole Perché diciamo Che a noi Quando è arrivato il disco Non ci è piaciuto Ma a me è divertiva Cioè io poi Frequentavo anche tanta gente Che non aveva a che fare Con il rap Che però magari Ascoltava la roba nostra Perché parlavamo Più di quello E poi sentiva Era comunque un disco divertente Allora ti dico Da ascoltatore pop Una persona Lo sentì Cioè questo è pazzo Ah fai ridere È simpatia C'hai capito Io dico Da repatico Vabbè sì Emile A me già non piace Emile più Se mi ascolto Emile è entrato Tutto in italiano Quindi comunque Un attimino così Cioè A me piaceva tantissimo Uomini di mare Sì Uno dei più bei dischi Che ha rivoluzionato Il modo di rappare Ha fatto una roba incredibile Poi la roba Adesso fibra Non mi piace Anche se nell'ultimo anno L'ho visto tornare un po' No L'ultimo disco È un fenomeno È veramente bello No Un fenomeno L'ho sentito Non mi piaceva Ma ho sentito un po' Di stroffe Che fatte Ultimamente lo vedo Che sta un po' Beh comunque Crescendo raga Cioè Devi anche riprenderti Un attimino Ultimo I classici Li ha Sì sì Ma indubbiamente Indubbiamente Quegli anni lì L'ero pischendo Te l'ho sempre Pompato a merda Mister Simpatia Non troppo Ma bugiardo Per dire Lui poi probabilmente Mi fa schifo Bugiardo è il primo CD Chiaro Dovremmo fare una lista Mega hit bugiardo Vedi dipende anche Da dove uno nasce Anche a me piace molto C'è nel senso Bugiardo è figo Io non me la sento neanche Di attaccare troppo I trapper di oggi Io ho 40 anni Chiaro questi qua Stanno facendo dei pezzi Che sono dedicate Della gente Che è dai 15 ai 25 Io ho 40 anni Chiaro che io sento Certe robe Dico che è Sta puttanata Sentro il mio coetaneo Che fa la canzone d'amore Che mi sembra Però chiaramente La sta facendo Dedicata a un pubblico Di 20 anni Io non scriverei mai Quelle cose Non mi interessa Neanche sentirle Tu scrivi per te Per divertirti Sono in pochi Quelli che fanno sta roba Esatto Soprattutto io non scrivo Per avere un pubblico Giovane Non mi interessa Cioè nel senso Invece adesso Un rapper Comunque se vuole vendere Deve scrivere Per quella gente là Ne facevo questo ragionamento Una volta Io quando ero giovane La mia opinione Non contava un cazzo Nel rap Niente Non contava un cazzo Perché erano quelli Più grandi Perché sei giovane Adesso che invece Tutti in mano i giovani Sono diventato vecchio Ma infatti abbiamo sbagliato Generazione Siamo messi lì in mezzo Dove c'è Quello piccolo Perché è piccolo Allora Quello grande Perché è il preferito Il tuo genito Tu sei quello in mezzo Esatto Cioè adesso Tutta l'economia Musicale È basata sugli ascolti Che vengono fatti In streaming Vengono fatti Principalmente Dai giovanissimi Quindi loro sono importanti Quello che ascolto io Cioè non gliene frega un cazzo Nessuno A livello numerico Certo Ascoltami Se frega Samuel Filter Perdonami Mi chiede Già Gianni Gianni fa un'intervista Ogni dieci anni Perché è stronzo Non si muove da casa Non c'ha voglia Non peraltro Ecco Mi dice Ma chiedigli di Petagna Fred De Palma Dead Poets Cane Secco La Young Fabri Fibra E tutti i suoi dissing Che ha citato nei dischi E la Young La Young L'ha passato La Young Eh? La Young L'ha passato E le vate in giro No Dico Porca d'aria No Dico Perché faccio la barra Dico Tu torni a far panini Se è il nuovo Di Maio Chiedi a La Young Fare il rap Un lavoro precario C'è capito Anzi parto da prima E dico Non rispetto la fede Io non sono Bertini Perché sono il nuovo Craxi Per questi tre Salvini Tu torni a far panini Se è il nuovo Di Maio Chiedi a La Young Fare il rap Un lavoro precario Capisci? Quanta politica C'è dentro Un disco rap Che tu Anche solo per capire Le citazioni Un ragazzo Va a studiarsi La storia Della politica italiana Che la scuola Non ti insegna No? Ed è figa Questa cosa Mi hai imparato tantissime robe Nel rap Io posso dire Io amo la musica Io prendo i sample Mi piace tantissimo Prendo i sample Ho scoperto tantissima musica Ascolto rap Una parte della giornata Ma ascolto tantissimo jazz Ascolto tantissimo soul Io quando ero ragazzino Compravo i dischi E la prima cosa che facevo Era aprire dentro Mentre andavano le canzoni Ce l'ha scritto Container sample off E poi andavo a cercarmi I dischi degli Asley Brothers I dischi di James Brown I dischi della gente Che veniva campionata E lei ha scoperto Tutto un mondo di musica Che adesso non esiste più Perché tutti prendono E scaricano le librerie Di FL Studio Si mettono là Si guardano il tutorial Copiano la base Prendono il type beat Ci fanno la hit Poi Spotify Gliela tira giù Perché era già stata Legitata ad un altro Che aveva copiato Lo stesso type beat Mi ha spiegato Le ultimi tre anni Gli ultimi tre anni Ma più che altro Ma più che altro Il discorso Ma posso dirlo anche Di quelli che si vantano In Italia Di aver fatto il disco di Platino Copiando le canzoni Ma dovete morire Ma che cazzo te la tiri Scusate Morire nel senso Artistico Artistico Sì 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 Come muore Mario Bros Nei videogiochi Ah ok Che poi ritorna Ah che mangi i funghi E poi crepa No che muore come Mario Magari vogliono fare qualcun altro Poi invece fanno Mario Capito Ah Ah ho capito Non so se avete mai sentito Il pezzo di Mc Milk on Drake Mi ricorda tantissimo Un pezzo italiano Forse gli italiani Dovrebbero denunciarli O forse no È riuscito prima Quello di Mc Milk on Drake Allora è successo Che quando Quando Beh è pieno di ste robe Cito questo Perché Michael Jackson Con Albano Ecco Michael Jackson Con Albano Ma senti la roba Poi tu dal campione Che usi Si va a capire La conoscenza musicale Del Quello che ho usato Il campione appunto Del rapper O del DJ Quindi Quelli che ascoltano rap E mi dicono No io ascolto solo trap Io ascolto solo rap Tu di musica non cai Sai un cazzo Amico mio Che ascolti solo rap Se mai Se avessi 20 anni Probabilmente ascolterai trap Io ho avuto la fortuna Di nascere in un periodo Dove c'era il G-Funk Io sono andato col G-Funk Aspetta che della G-Funk Quando ero ragazzina Ascoltavo G-Funk Quelli che facevano i pop Dicevano No quello non è rap Si Adesso vogliono a dire Che Dr. Dre Snoop Dog Non hanno fatto la storia del rap Quindi anche nella trap Sono delle robe strafighe La trap Che poi in realtà La trap Non è Esatto E che quelli che cantano Con l'autotune La trap è nata con T.I Prima a parlare tra Sono stati i Goody Mob Che hanno fatto i dischi da paura E' arrivato Young Jinji E' arrivato Gucci Mane E' arrivato Adesso siamo arrivati A questi qua Che cantano con l'autotune Senza fare una rima Neanche per sbaglio Anzi quando la fanno Dicono No cazzo ho fatto una rima Toglila No A noi ci siamo saltati Una volta Abbiamo letto Un testo di una canzone Una volta Forse la sfera ha fatto Oh ha fatto una rima Oh è pure figa Oh questo è un contenuto sociale Importantissimo Perché dopo tre anni Che era solo Cioè quando fanno una rima Poi se Sembrano Posso dirlo Posso dirlo Io queste robe qua Nella trap italiana Chiamiamola così Cioè io non le accomuno Con il rap Io mi faccio la playlist Per quando vado Parto da Milano Per andare giù a casa Con me amorose In macchina Magari mi faccio la playlist Dove ci metto Luca Carboni E dentro ci metto Il pezzo di tè Edua Mi piace tantissimo Anche perché poi Però non è che Sto ascoltando In Italia Non esiste È una roba 360 Io ti dico che Quella che stanno facendo Ad essere in Italia È la miglior musica pop Fatta in Italia Negli ultimi 30 anni Ma sono bravissimi Ma Sfera è bravissimi Sfera è da paura Non puoi dire che non è da paura Ah sì Non è rap Però lo fa Quello che fa Lo fa da paura Non è neanche tra Sono stato anche a suo concerto Al forum Anche perché tra Veramente Niente Da vivo com'è Ma io mi sono divertito Ah ma sul disco Il disco suonava Ah no ma c'è Non saltava il cd Quindi va bene No secondo me C'è non è invece nodi Come adesso L'hai alzato anche a cantare Sì È tutto fatto bene Dai sono bravi Ho visto anche Ho visto Questa te ero a un festival E il primo a suonare Era Tedo Mi sono visto live di Tedo Tedo a live Bravo dai Tedo è un bravissimo ragazzo Mi sta simpaticissimo È un ragazzo incredibile Si merita tutto Il successo che sta facendo Tu mi dici Sì e fa un paio di pezzi Dove rappa Anche da paura Nei dischi La maggior parte Dei suoi dischi Io non li calcolo Come rap Io quando ascolto rap Mi ascolto Sidegun Mi ascolto Magari della roba vecchia Della roba nuova Però dove la gente rappa Ma anche la trap Dove la gente rappa Mi ascolto Young Jeezy Mi ascolto Gucci Mane Mi ascolto Che cazzo Ne so è uscito Casanova Per dire Machine Gun ti piace Machine Gun ti piace Kelly No eh No perché C'è tante gente Sta in fissa Eppure avrà fatto Due o tre pezzi Melli melli Però in realtà Poi uno si affeziona Poi quelli che rappano veloci Che cazzo Rappi veloci a fare Basterà un po' Rappare veloci Non è che Non hai vinto niente Vabbè è limitato Il tipo Tanto che il valutatore Ma l'ha capito anche lui Sì l'hai fatto Cioè con lei è tutto Bianco magro In realtà tu agi Così vabbè È il personaggio Sace di meglio Ho tutto bello nel film L'ho visto nell'ultimo film Ultimamente Che film? Last Action Hero Io sapevo che recitavo Non l'ho visto Gianni come hai conosciuto E guarda solo porno Questa cosa è ridondante Oggi la sentiamo 20 volte Vai Gianni come hai conosciuto Franchino Gianni Bismarck E Borghetti Io ho conosciuto Borghetti Che ha iniziato a propsarmi Di brutto Su Instagram Quindi siamo iniziati a scrivere Un giorno eravamo al telefono Sentivo uno che urlava Alle barri di Young Bettini Sottofondo Dicevo che cazzo c'hai Un amico tuo ubriaco È Franco È Franco Sì è Franco È Franco Io ero un mega famiglio Polaroid mi è piaciuto tantissimo Polaroid Anche perché noi Io 20 anni fa In spiaggia Con un amico La chitarra Facciamo quella roba là Certo Infatti Cioè Raccontavamo Di noi che rimorchiavamo Le tipe Lui suonava la chitarra Faccevi lì Diventa lì E gli altri rimorravano No Beh Parlavo le tipe Gli facevo i freestyle O vincevo tutte le cose Vabbè Comunque E quindi mi piaceva tantissimo Quando mi è venuto così Ha detto Non ci credo Poi ho iniziato ad andare in giro Quando sono venuto a suonare qua a Milano Stato al concerto Eri a piangere Poi sono capitato No no Ancora il primo Quello di Ketama Dove c'erano tutti quanti Poi li ho visto L'ho visto cinque volte Ero sempre Perché magari andavo da qualche parte C'era il concerto anche su Dicevo Vabbè dai Visto che sono qua Chiamavo Così siamo andati amici E con Bismarck uguale Bismarck poi Mi ha passato anche dei pezzi Che non sono mai usciti su Di 3-4 anni fa Mega rap Fantastici Ma loro sono Mega rap Il filasco di Gismar Ritornare al discorso di prima Il disco di Bismarck è be' figo Pornal di Roma Ma tu Questi pezzi di un disco suo Che non è mai uscito Era tutto brutto Danilo Brown Inediti Che mi è passato Cioè Proprio questi beat mega rap Ma veramente fighi E pensa che il disco di Bismarck Abbiamo sentito il primo pezzo E ho detto no Il secondo no Forse c'era Tony F dentro C'è Nora Ma che è stato Poi è arrivata la terza La quarta Oh Ascolta e dici No no è figo È un bel disco Penso che siamo Penso che sei Uno dei migliori Non vai all'università Non ci sono mai venuto qua Ma ci vengo solo a spegnere il fumo E poi quando dice È buono che un piatto così Non ti è mai venuto Cioè Capito Grande Bismarck Fratellino Quindi la grana di cucina Io e te Bismarck E E Bluč Bluč Invece con l'ILPIN Com'è nata la collaborazione Adoro il concept di quel disco Le produzioni L'ILPIN ci conosciamo da dieci anni Perché Scusami Il disco è quello Dove io ti ho detto Ah Perché non ci canta mai Perché non canta mai Johnny E poi scoperto che Avrei sottofatto le produzioni Ho fatto le produzioni Ho fatto un beat Sì No Il PIN lo conosco da una vita Lui ha sempre lavorato con Kennedy Che per me è stato Il miglior producer rap Che c'è stato qua in Italia O sicuramente Uno dei più forti Pezzi più fighi di Nex Per esempio Sono su base di Kennedy Poi Kennedy Ultimamente non produce più Io ho detto Ah se vuoi ti faccio un po' di beat BAM Ho fatto un disco Ma lo conosco da dieci anni Di più forse Ma lo lavoravamo I tempi di Micromali I primi pezzi dove c'eravamo noi Ero nei suoi dischi Ho fatto varie cose Sì Sì Poi l'ILPIN per me è un rapper geniale Capisco che sia difficile da sentire per tanta gente Però certe barre Certi concetti Che incastrati E dopo tu lo ascolti E dopo stai arrivando alla barra Dopo e capisci che cazzo aveva detto prima E dici No mare Certo Quello di cui parlavamo prima Magari metti da parte un pochettino Poi nessuno rappe come l'ILPIN No nessuno Senti l'ILPIN Certo Poi può non piacere Perché è veramente uno stile difficile Per molta gente Io lo adoro No ma appunto per questo La particolarità Il fatto di non standardizzarsi Il fatto che magari A volte all'inizio La prima volta è ostico Un certo tipo di timbro Piuttosto che un certo tipo di flow Certo Ma poi Quando comprendi il personaggio Perché poi c'è la ricerca Devi ovviamente Stiamo parlando di rap Di musica E stiamo parlando anche di personaggi E di persone Che vivono in determinati ambienti e cose Quindi devi per forza conoscerli Per apprezzare a 360 gradi Un artista E quindi Lui fa parte di quella categoria Come Johnny Joyelli Come Ma noi siamo rapper Siamo rapper che non hanno Velleità artistica Invece molti rapper in Italia Adesso si sentono tutti artisti Per me il rap non è arte È sport Eh bravo Anche perché l'arte è un'altra Cioè non è che stai facendo Un dipinto Ma ascolto Il disco di John Coltrane Quella è arte Quella è musica che è arte Il rap non è arte Dai Dai Che stiamo dicendo Tra l'altro Per farvi capire come ragiona lui E che tipo di devastazione Ha nel cervello Johnny Joyelli Puoi raccontare un po' Quando lavori al computer Il mood e lo status In cui ti immergi Se voi ti spiego come ho fatto il disco Io il disco l'ho registrato in due notti Vai Spiega Come in due notti L'ho registrato in due notti Ho fatto due volte il studio da Garelli L'ho registrato da mezzanotte Infatti sono un paio di pezzi Vi senti che sono un po' più ubriaco Perché erano quelli che registravo Alla fine della notte Va bene L'ho registrato in due notti L'ho mixato e masterizzato In cinque giorni Ci ho messo un po' di più Questo Di solito lo facevo in tre o quattro giorni Ci ho messo cinque giorni Una settimana di lavoro Ma questo è perché Tu hai un sistema alienante di lavoro Che nell'alienazione Sei completamente full immersion Perché io faccio videogiochi Quindi c'ho magari C'ho il mio schema Che va avanti Poi impazzisco C'ho la musica in sottofondo C'ho il porno che va sempre là Nel riquadretto Che così quando mi distrago Vedo il porno E dico ok Poi a un certo punto Impazzisco E dico adesso voglio scrivere due barre Prendo c'ho il foglio in parte E scrivo le barre Tante volte sono là Che magari sto facendo il beat E intanto scrivo le barre Avendo già tutte le distrazioni intorno Non si distrae dal lavoro Esatto Perché ho qualche più Ah tu di cosa ti distrai Subito il porno Perché siamo maschi E ancora il cazzo ci tira Quindi ah porno Ok ce l'ho già Qua boh Distratto via Ho sempre delle immagini Torno al lavoro Musica Ah bella la musica Sono al lavoro Cioè ho un'immagine Che si muove sempre Capito Se metti un film Dopo vuoi sentirlo Però se dopo ascolti Che cazzo sta dicendo Dici aspetta no Devo concentrarmi Su quello che sto facendo Invece il porno Già non serve a sentire Beh però ci sono quei porno Dove Ah io mi eccito solo Se dici le parolacce C'è Scusate Dile parolacce Lui è arrivato a casa Il giorno prima Che facessi il master Io stavo guardando i porno Per cercare gli skit Ma proprio La sera che ho fatto il master Gli ho aggiunti gli skit Quindi c'è Samuel Filter Che prima ha fatto quella domanda Ok Un'altra domanda Ma c'è solo lui C'è una persona che mi guarda No c'è troppo gente Che però dicono cacate Quanti siamo in live Mi stanno insultando Eh barro 200 Belli Ma Scusami Ho notato però Che questo disco È mixato un po' peggio Rispetto a Young Bettino Ben è embriaco Le due di notte Ho mixato meglio Questo Young Bettino Non so che udito tu abbia Questo è mixato meglio Young Bettino Non suonava Sai suonava a caso L'ho fatto a caso Se l'ho esportato Che non sapevo neanche Che cosa stava facendo L'ho caricato Abituato a cui suoni lì Allora Questo sembrava figo quello Ok ok Questo è stato molto pulito Come suonava Sì ma è pulito Ma poi nel senso Io faccio questa roba qua Cioè io non voglio roba Che pompi Che faccio il classico Rap Hip hop Italiano Underground Possiamo dirlo Che i puristi italiani Fanno della musica Fanno cagare Io voglio che la roba Suoni Abbia una musicalità La batteria sta sotto Certo Quindi io la faccio suonare così Poi se non suona bene Come ti dicevo prima Nei pezzi dove non c'è Dove c'è la mancanza Della batteria Non si sente la mancanza Della batteria Ma perché È bello di quel genere Esatto È bello di quel genere In America c'è C'è proprio un movimento C'è tantissima gente Che fa proprio della roba Da lì Fanno dischi interi Eh sono quelli che Abitano in condominio L'hanno grissata Sta cosa Ma io andò Ti sparano Se rompi i coglioni No Eh sì Perché comunque In America Sai che è costretto Tutto verso l'alto New York E quelle cose di Ed è nato proprio A New York A New York No battery Si chiama quel genere No battery No drum No drum No 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 L'autista Qui ha detto Cosa ne pensi di Vai C'è 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 La cassidermia Johnny Hai sentito Pacchi Pacchi Rozzi Ah Sì Tu hai sfuggito L'altro giorno Sì Broio Rozzi Vabbè Sì L'ha fatta Ce l'ha Si faceva ridere Tu devi parlare Sei un rapper Non hai capito Che devi tenere qua Attaccato No Attaccato al mento Se parli qua Parli sulla media Allo back C'è Una cosa Che può essere Interessante Dice Secondo te Tutti fanno cagare Ma forse è per questo Che non è successo Ma a me C'è il mio gusto personale E mica dico che c'ho ragione Vaffanculo Giusto Ma a me Non me ne frega niente Ma io non voglio Niente fare successi Io non sto facendo Il campionato di serie A Per me C'è Prende uno che lavora E la giovedì sera Va a fare il calcetto con gli amici Il rap Per me è il calcetto con gli amici Io faccio altre cose nella vita Non è il tuo bisogno di vita Essere Ma io allora se io volessi fare il rap per lavoro Avrei fatto delle scelte diverse In tutto In tutta la mia carriera di rapper Avrei fatto totalmente sette diverse In quello che dico Nei rapporti con le persone In tutto A me non me ne frega un cazzo Di fare il rap per lavoro Lo faccio perché mi diverto Mi diverto Becco degli amici Becchiamo Scriviamo le bar Andiamo a studiare Registriamo Ci sbronziamo Ma secondo me questa domanda È un specchio dei tempi Del fatto che Se tu non hai Uno status di essere qualcosa di più grasso Allora non vale la pena Di essere ascoltato Che secondo me è la cosa peggiore Io mi ricordo Andavamo in centri sociali A ascoltare il rap E c'erano le distro Che ti regalavano i demo E tu andavi a casa Tutto contento Di aver trovato un rapper Che ancora non conoscevi E ascoltavi il disco Manca la scoperta Ma adesso ti faccio questo esempio qua Col G Rapper Uno dei rapper più influenti d'America Cioè tu parli con Jay Z Jay Z Che è la tua ispirazione col G Rapp Nas col G Rapp Eminem col G Rapp Biggie col G Rapp Dicono tutti Col G Rapp è uno dei più Ha inventato le doppie rime Lui è Big Daddy Kane Non ha mai fatto un disco d'oro Big Daddy Kane Schillo che ha fatto una canzone In vita sua I wish Che l'ha rifatta pure Gaemon La rifatta Quello è un pezzo di Schillo Rifatto da Gaemon Gaemon l'ha anche dichiarato Ma la gente non lo sa Pensa che Gaemon sia un genio Vabbè Povero Gaemon Gaemon Ti vogliamo bene però Schillo Quell'inutile essere Un disco d'oro Col G Rapp non ce l'ha Mi state dicendo che Schillo È meglio di Col G Rapp Ma non sanno chi seriano Questa gente Senti ma lo specchio dei tempi La domanda è Per questo che hai fallito come rapper Quando poi Ma io posso dire Tutti Ma no ma poi Tutti i loro rapper preferiti Sanno chi sei E' lui che non ti conosce Fermi un attimo Quando Micromala Quando Micromala Raga Scusate Quando Micromala Era come artista Brand New Mtv Io ho deciso di aprire un ristorante Fallito cosa Poi nella mia generazione Nel 2001 Uno non pensava neanche Quando io avevo 20 anni Nel 2001 Uno non pensava minimamente Poter fare dei soldi del rap Non esisteva Il rap in Italia Non esisteva Ok comunque Lui nel 2019 fa musica Sai di quanti Quei tempi lì Non fanno più musica No no Oppure la fan e fa cagare Oppure la fan e fa cagare Ma infatti Esatto E la roba peggiore Sono quelli della sua età Che cercano di fare la roba Sì Infatti dico Pensa che culo Che ho perso i capelli Almeno non erano fatti rosa Quando vedo I capelli tinti Dico Pare c'hai 40 anni Ma dove cazzo E la rima del disco E la rima del disco Oltretutto Davvero Taci che li ho persi Tra l'altro Tra l'altro guarda che Per dirti io Che è un disco Che mi è piaciuto Vuol dire che è figo Perché io sai che sono rompicoglioni Su tutto Sì 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 Ma il disco Ti piace le teste di cazzo Come noi Bravo Bravo Infatti noi Siamo bene tra noi altri Poi il bello di essere controcorrente Che non c'è nient'altro Ma no È bello di essere se stessi Non becchi una fetta di mercato Che anche se vuoi fare Un ragionamento economico Non becchi una fetta di mercato Che non è rappresentato A livello mainstream Quindi Che è successo Ah ok Ok Che è Lucia Lucia Ha scritto Si ha scritto Hai fatto più giorni di galera Che soldi Hai fatto più giorni di galera Che soldi Povero stronzo Disco d'oro Solo per questa barra Dice Lucia Questi rapper vogliono fare criminali Fanno cagare come rapper Eppure come criminali Cioè hai fatto più giorni di galera Che soldi Non sei un criminale Questi che fanno i criminali Se sei un criminale Minimo devi guadagnare Almeno uno stipendio Quindi almeno 1500 euro al mese puliti Se no non sei un criminale Sei proprio uno Che si sta arrangiando Non sei un criminale Non puoi fare il gangsta Sono soddisfatto Sei uno che si arrangia Per sport È un hobby Esatto È un hobby Come per rap Cioè lo fai per piacere Il criminale è a mezzogiornata Partai Cosa fai amore Questa sera Questa sera vado a spacciare Quegli amici Hai capito Quello sei Se mi arresto È un divento famoso Ci sta Perdi figli No quello sono Le domande che non possiamo Pensi di fada Che tiene un fumetto No no Pensi di fada Te lo scrivo io Caso mai lo perdi Fagli parlare del perché odia Fai scatte di The Pod Visto che li cita sempre Li ha citati in una barra Ho detto Non sono The Poet Perché non sono ne un poeta E neanche sono morto Vabbè loro hanno una concezione Di rap diversa dalla mia Ma però è figa questa barra Ma poi è un gioco Ma se uno di loro mi risponde Un dissing Ma io sono felice Ma rido Ma è la competizione Cioè Non è una cosa che Cosa ne penso Non penso che loro Sono considerati fighi Che fanno rap underground Ok facciamo un dissing Vediamo che è più figo Fatemi sentire le vostre barre Però hai visto che è figata Hai visto che è figata Quando dico Dico sono il king dell'underground E stanno tutti zitti Ma che arrivasse qualcuno A dirmi No sei un coglione Adesso ti faccio un dissing Sono io il king dell'underground E allora iniziamo a divertirci Ma quando è divertimento Quando è divertimento Ci credo che i ragazzini Non ascoltano il rap Ma ascoltano la tra Perché il rap italiano È di una noia Noi mortale Il rap underground Siete noiosi Non dite niente di divertente Dal 96 Strane Murobutu Che ha uno spiccato senso Dell'ironia Ed è sempre leggero No Quando non parla di rap Quando non fa il rap È molto bravo Non so se non sei mai riuscito A ascoltare una canzone Per l'intero Non ascolto quella roba Eh lo so Se una certa non partita Che è stato Ma che c'è Se una certa non squirta qualcuno È inutile Se non amore Nessuno ai primi due minuti Del film Io non lo guardo Cioè Quale Murobutu Mi sapevo Ciao Muro Un domanda interessante Di SinterAids Che potrebbe avere Uno spunto di riflessione Molto interessante Come si vive di musica Se non si è un bico In questa scena Non si vive di musica 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 Puoi fare soldi Trovati un lavoro Ma puoi anche fare metà dei soldi Cioè La scena di C'è gente che fa metà dei soldi Con la musica Che adesso fai metà stipendio Con la musica C'è il mio microfono Oh scusate Adesso vai a essere ritornato Saltella La scena freestyle italiana Però è sul pezzo d'anni Secondo me La trap non li va Però io Non so cosa hai detto Comunque fra Trapp è proprio una roba Che a me da fastidio Perché non vuol dire un cazzo Fra non vuol dire un cazzo Va bene Ma lascialo Allora io non riesco a far cambiare Allora fermi Io non riesco a far cambiare idea Alla mia ragazza Che possa far cambiare idea Alla tutta Italia È un discorso morto Ecco No lo so Purtroppo perché noi abbiamo rinunciato A sta cosa di Della di decisione È la trap va bene Va bene così Dai Facciamo che le vada bene Posso dire che Io freestyle secondo me Ma non Cioè La trap è il rap Quello più colorato Cioè Freestyle è bello fan Ma sentito non è bello Cioè nel senso È bello Però dopo un po' Raga scusate un attimo Quando parliamo Se no c'è Allora Parlamai Stai dicendo una cosa figa In realtà Ha detto una figata Vai Scusate C'è lì Perdonami Mio mi annoio Sentire freestyle Sinceramente Noi quando organizzavamo Le serate Ancora 15 anni fa Non facevamo i contest di gruppo Che arrivavano con il pezzo Perché sentimmi due persone Che si sultano Queste rime Perché Perché se non sono preparate È una rottura di cazzo Più che altro Da 4 anni a sta parte Tutti i freestyle italiani Anche quelli bravi 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 È una gara di punchline Ma chi per sé ci sta Però c'ha i sediti Ma se uno spacca Ma poi diventa Poi diventa Urla Oh che palle C'è una roba brutta C'è una tipa Non ci andrà mai A vedere una roba del genere Che palle C'è questi due Beh dipende Tipi ritardate Tu hai detto una cosa figa Daniele Dillo Quella dei trapper Io ascolto prevalentemente Rap americano Però sono cresciuto Con il rap italiano Sta roba della trapper Abbiamo deciso di usarla Perché qualcuno l'ha detto L'hanno usata in 2 3, 4 E il trapper che cos'è È un cantante Cioè uno che non è abbastanza bravo A cantare Per dire che è cantante Non è abbastanza bravo A rappare Per dire che è rapper Allora deve trovare qualcosa Che gli vada bene Che dice No non è che non sono con voi Sono in un mio gruppo Capito Questo era un discorso Che mi faceva Mille anni fa Un certo DJ Raff Cioè no Fra due C'è un discorso Che mi faceva Ma proprio qualcosa Come sei anni fa Dicendomi Chiamatelo in un modo diverso Non chiamatelo rap E effettivamente Anche la roba che fa lui Non è vero Puoi chiamarlo rap scarso Capito Sì nel senso Se gli dai un altro nome Allora pensano Che sia veramente Però effettivamente Quello è il discorso Cioè ti sei totalmente distaccato Da una Infatti anche prima Ne abbiamo parlato di questo Cioè per noi è pop Io l'ho valuto come musica pop Sì Ma non me ne fai niente Di come chiami la musica Cioè nel senso Basta che bella la musica Se poi sei bravo Se voglio ascoltare rap Per me il rap non è musica È sport Però mi ascolto rap Blobby però quando fa freestyle Regala Se siete contenti voi Ciao Blobby Non abbiamo neanche Soltato Blobby Blobby Paffa in culo Mi fai un freestyle Ecco questa è la cosa più odiosa Se sono pronti Non faccio freestyle Dai oh fammi Blobby nice Secondo te Cosa manca Della scena italiana e pop Nella scena e pop italiana Ad esempio Mancano radio Magazine Leggi su copyright Per i campionamenti Manca qualcuno Che spacchi Quindi manca un Manca un po' di freschezza Secondo me Poi la maggior parte La gente Soprattutto quelli Che ascoltano La roba più classic Non ascoltano i dischi nuovi Oppure esce il disco Di uno che faceva Dischi degli anni 90 Americano Faceva music degli anni 90 E se lo ascoltano Come se fosse di Invece magari Sono dieci anni Che fa dischi di merda Quindici anni Però esce della roba Strafiga Tutti i giorni in America State attenti Ascoltatevi le robe Manca frate Manca il mio disco Che esce settimane Bravo Siamo qua apposta 22 novembre Serie A Serie A si chiama Serie A E tu sei? Armani Doc Andatevelo a peccare Perché Armani? Perché C'è stile La chiamatoria Armani 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 Io ero solo tu E lui aveva dato un pezzo Giorgio Armani Possibile che non ci siano Anche un pezzo Armani mi ha Armani Armani Perché era anche L'intervista che Armani Ha fermi 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 Io non ho mai detto Che Neffa è scarso Semplicemente Quando mi Sento citare Ogni volta Il più grande Rapper italiani Nel 90 Neffa Vabbè Cioè se Neffa Era veramente il migliore Io vedo che comunque Uno dei più underrated È Tormento Io vedo che comunque Tutti i rapper italiani Di adesso stanno citando Tormento Io lo cito sempre Tormento Però sembra che Neffa Abbia fatto Ma sì Non mi ricordo Tante barre Che spaccano di Neffa Invece di barre Che spaccano di Tormento Non mi ricordo una marea Se vuoi venire con me Devi farti un giro Con tutti gli anni Quella era bella Se vuoi venire con me Devi farti un giro Con tutti gli anni Capito la differenza Ci fa anche Ci fa anche Per il passo che dice Neffa Ma ti ricordi Quello che ha detto Io di Neffa Rappisci la mia musica Colpisce il cuore È bellissimo Ha fatto dei pezzi bellissimi Ha fatto due dischi Incredibili Neffa Cioè non mi sembra Che ogni volta Che viene chiesto Ti dice Neffa Ci sono stati tantissimi Rappi che hanno spaccato Qua in Italia Però Neffa è quello Che uno dice Quando non si vuole sbilanciare Neffa va bene Per tutte le stagioni Sì perché metti d'accordo tutti Ma è come dire Motored È come dire Motored Per un metallaro Un rocker Un punk Dici Motored Va bene Bravissimo Cioè io sono Dato i concerti Neffa Di qualche piacere No ma poi Io li metto In due categorie Però io posso dire anche quel cazzo Però posso dire Che io preferivo Deda Per esempio Mi sognavo il disco di Deda Ma infatti Non è mai uscito Il disco di Deda Non è mai uscito Non è mai uscito Lui insieme a Salvo Del Grande Fratello 1 Deda è Salvo Tra l'altro Salutiamo Tormento Sono andato a vederlo Settimana scorsa Tormento è Insieme alla reunion Dei dieci anni No la reunion Il compleanno Dei dieci anni Dei Double Stagol Cioè la Tormento Salutiamo tutti Bella Torino Tormento è leggenda Totale Tormento Il mio rapper preferito Se lo dicevo Quando ero piccolo Mi davano i cacci Ma anch'io l'ho odiato Quando ero bambino Per dei periodi Tutti l'abbiamo odiato Ma io mi ascoltavo Quest'estate Un giorno Mi ascoltavo sotto Effetto Stone Ma senti che cazzo Di disco Ma senti che plug Che c'aveva Che barra Ma suona ancora adesso Senza bassi Ma suona da paura Senza bassi Ma quella è colpa di Fish No sì Ma ancora non c'erano i bassi Sì All'epoca era un miracolo Che la roba suonasse Cioè Certo C'è tutto quel tipo di roba Ma poi la gente adesso dice Ah una volta La gente era scarsa Ma come facciamo musica Una volta Ma adesso voi prendete Vi scaricate Un cazzo di programma Craccato Vi craccate 52 librerie Vi guardate un tutorial Su come fare i beat In un'ora avete imparato Noi ci mettevamo davanti Un programma Dove non c'è Noi ne sapevamo neanche Che cazzo dovevamo fare Noi ne sapevamo così Cioè Adesso Che cazzo si fa Quello stronzo di fabbrica Uno che si compra le librerie Se le compra proprio Oh idea Esattamente Cioè Ci credo che adesso è facile Se sembrano tutti dei geni Si mettono una E impari Quando esce il disco nuovo Ma come Ho cito l'altro giorno Oh musica veloce Devi produrla Che fa spunto Abbiamo messi Ci sono Abbiamo fatto Se avete visto Facciamo fase 1 Abbiamo fatto la fase 2 Siamo facendo come la Marvel Il primo disco è la fase 2 Young Bettino Poi esce il disco di Braz Che merda Il film della Marvel T'aspetta un attimo Scusa ripeti Esce il disco di Braz Con tutto prodotto Da Ness Cassell Poi uscirà il disco di Blobby Poi uscirà il disco suo Poi uscirà la fine della fase 2 Che sarà il disco di tutti quanti assieme L'abbiamo chiamato Villain Ma ma è una figata Villain grande Ma Villain non era No no Mi sono scusate I cattivi dei fumetti Ma no mi sono confuso Con un disco che ho sentito oggi No scusate Erano gli atti Quello è Villain È Villainz di me Del Galla Salutiamo anche il Galla Ciao Galla Non ci guarda in base La Young amico tuo Sì sì madonna Quando avevi quella Compra e vendita di macchine usate Va bene raga Allora sulle 16.04 Abbiamo finito l'intervista Grazie a Johnny Grazie all'accompagnatore A cui uscirà il disco Sì Ma la prossima Sì Si chiama Armani Junior Armani Junior Qua sotto Armani Junior Quando faremo i vestiti Qua sotto c'è Che sta dicendo cose serie C'è il link Di Johnny Jelli Per seguirlo sulla pagina Tutto Instagram Questa reaction Questa La puttana Di sua sorella Questa intervista L'ha ricaricata Domani su YouTube Alle 14 Quindi se per la siete persa La potete guardare lì Oppure facendo l'abbonamento Su Twitch Che Di solito Facciamo sempre La beccarina Grazie ragazzi È stato un piacere È stato un piacere nostro E ce ne possiamo andare Su un culo La vuoi la testa di cinghiale Impagliata? Ne ho già due No Se è un po' di cinghiale Lo cuciniamo Se vuoi cucinare le cinghiale Hai già provvissimi Testa di cinghiale Bella figlia da me La spegni E' un po' di cinghiale Grazie